Pronto? Pronto? Si? Si? Dica! Allora sapete le telefonate quando vediamo le compagnie telefoniche che voi... Oh e capita a tutti e chi c'è? Salvetti, Salvucci, Salvini chiama questo chi è? Salvini, lui si? Si? Pronto? Dica! Guardi però dovrebbe essere rapido... Oggi pensavo proprio di... Devi farla franca pure oggi? No pure! Vabbè prendi il posto Paolo tranquillo Grazie! Prego figurati! Francesca che sto Paolo Gelata? Che emozione! Tu sei abitato sempre a vederlo seduto, non lo vedi mai... Guarda come si muove... Guarda a bacia... Si si... Guarda qua... E' proprio il rass della sala stampa... Guarda come si la comanda... Prima fila posso riservare... Prima fila, è arrivato prima fila... Noi stiamo qua da... Un po'... Si ma... Ecco qua le foto della passeggiata di cui parlavamo... Quella è così... Approvato il decreto sicurezza bis... Quindi scendola... Ti senti più sicuro? Io si... E' ammazza... E' tutto diverso rispetto al primo... Grazie a te... No... Grazie a te...